Madre sta per vivere insieme a tutta la congregazione, è un momento di grande gioia. Dopo 85 anni, oggi vi verranno consegnate le Costituzioni. Come state vivendo questo momento? Allora, con molta trepidazione, con molta gioia, sembrerci un sogno. C'è arrivato come una grazia di Dio, come grazia di Dio che vivamente è un dono da cielo. Quanto è presente il Padre Evaristo oggi? Sempre, io so. È una grazia che ha concesso a lui e alla sua comunità, perché noi nella nostra fragilità non avevamo nessunissima intenzione di farirlo a noi. È ciò che ci ha lasciato, queste sono delle fonti di fede meravigliose da far conoscere a tutta la Chiesa. È andata a scoprire, noi che l'abbiamo vissuto vicino a lui, queste gioie, abbiamo il cuore traboccante di gioia per poterlo dare agli agli altri. Non abbiamo le capacità, non siamo capaci, però c'è un tesoro proprio grande. Una famiglia riunita, maschile, femminile? Una famiglia riunita per me è un miracolo, perché nel giro di due giorni si è concluso di un uomo. Quello che sembrava impossibile agli uomini non è stato impossibile a Dio, questo lo posso dire a voce a chi ancora ci pensa, è questo che mi fa comodere, che la grazia di Dio è arrivata proprio in quel momento. Direttore Renato Addisani, è arrivato questo giorno, è la consiglia delle Costituzioni, un momento possiamo dire di grazia di Dio. Come lo sente e come lo sta vivendo? Sì, io sto vivendo che è un grande dono per la comunità, sono passati tanti anni dalla fondazione e dopo tante perifersie si è arrivato questo giorno. Questa è per noi la base per continuare, secondo l'insegnamento del fondatore, tutte le attività che la comunità stessa offre, soprattutto nell'assistenza, soprattutto ai malati mentali, ai bambini ottoni, insomma la comunità si impegna soprattutto nell'assistenza, oltre giustamente come comunità a seguire i voti di povertà, i voti di carcettà, i voti di obbedienza nell'ambito della comunità. Siamo in parole povere, non abbiamo un abito, ma siamo come frati stessi. Per il ramo maschile quanti siete? Oggi una bella rappresentante. Attualmente siamo 12 siamo come confratelli, le sorelle sono 14, purtroppo quando sono venuti in comunità eravamo...